Vi stiamo trasmettendo dallo Stadio dei Campioni. Un saluto a tutti gli amici sportivi dal vostro Gianni Pinola e anche oggi per il commento tecnico l'imparreggiabile Sandro Manini. A te la lina Sandro. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Campionato Master Serie A, settima partita. L'International contro la Roma. Oggi affronta... Ecco la squadra dell'International. E' il calcio d'inizio. Sulla destra del campo si schiera la Roma, mentre dalla parte opposta, sulla sinistra del teleschermo, si schiera l'International. Cross su il secondo palo. Ecco la rimessa laterale. Cross. Palla in aria. Cross al centro. L'International subisce un gol che fredda gli entusiasti dei suoi tifosi. Bene, vediamo il replay. Mantiene il possesso. Se solo riuscisse a passare la palla. Tiro! Che peccato. Ottimo passaggio. E' il portiere di un giro che era la palla. Frutta lo spazio. Porta il cross. Saltano in via. Una bella occasione. E tira! Rimessa del portiere. Tiro! E calcio alla palla a fiori. Tiro! Tiro! E tira! Peccato, sarebbe stato un bel gol. Chiude il vado. Tiro! Ma la parola alza... Ed è fonda. Ma quale c'è un gioco Ed è fine Il portiere urla ai compagni per incoraggiarlo Tira in porta Palla nelle mani del portiere Triangolo Antigica Non riescono a concretizzare Mantiene il possesso C'è una chance Ottengono un calcio d'angolo Colpo di testa Prova ad aprirsi un varche Lottano per il possesso del pallone Triangolo Tiro Lottano per il 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 Troppo di testa Palla in angolo Rimessa dal fondo Hanno un'occasione da due Tiro E' una rete incredibile L'internazionale Le due squadre Le due squadre sono in una situazione di assoluta parità Allora Sandro Che cosa pensi della partita Fino a questo punto Ma secondo me Dovrebbero essere più incisivi in attacco Grazie mille Sandro Ma vediamo ora cosa ci aspetta in questo secondo tempo Ecco Comincia il secondo tempo E' un contrasto pericoloso Cerca di anticipare l'avversario Sembra un buon passaggio Simpost E' dentro Nooo Una splendida conclusione L'internazionale Si porta in dantaggio Bene Vediamo il riprende E' davvero un grande gioco Sono trascorsi 5 minuti Dall'inizio della ripresa Scatta la trappola del fuorigioco Si sono stati bravi a mantenere in linea la difesa Frutta lo spazio E' un torno Prende una breve ricorsa Si Molto probabilmente Una scatta Rimessa del portiere No E' fuori Non può mangiarsi un gol così Effetto ha un passaggio con la testa Brutto fallo E' un posto Un po' di E' un posto Un po' di Un po' di di testa la mette al centro laggiù devono stare molto attenti al centro calcio d'angolo sembra uno schermo hanno dei bravi colpitori di testa scambi sì, gol gol un capolavoro l'internazionale getta tutto il vento di cantante bene, vediamo il replay lo serve molto bravo certo, il pazzo l'assertato prendo una tecnica eccezionale l'internazionale si porta in pentate bene, vediamo il replay si gira su sette siamo al venticinquesimo del secondo tempo una riserva ha cominciato a scaldarsi a bordo campo di chi sarà la palla e tira entra il sostituto riesce a penetrare rimessa laterale se solo riuscisse a passare la palla palla al centro ottimo passaggio è gioco pericoloso sembra proprio che non riesca ad alzarsi non c'è la parte rimessa laterale ecco la rimessa laterale si riuscita lo spazio si è in possessa del pallone e si dice fai di testa manda la palla al centro tiro e gran gol un gol davvero da Mario l'internazionale si fa recuperare il vantaggio ma non si devono assolutamente arrendere contro non è ancora tenuto rivediamo ancora una volta la palla e subisce fai buono in centro rimessa del portiere ecco il disco finale il tempo è finito parità l'internazionale è stato un bel incontro fino alla fine il pareggio non venuto nessuno allora Sandro come ti è sembrata la partita è stato un bellissimo incontro entrambe le squadre meritavano la vittoria ok Sandro grazie per il tuo commento tecnico è arrivato il momento di chiudere il collegamento un saluto a tutti dal vostro Gianni Pinotti come sempre il commento era affidato al nostro Sandro Manini grazie Sandro grazie Gianni e arrivederci a tutti bene arrivederci a tutti gli amici sportivi in ascolto grazie a tutti grazie a tutti